tesoro mio ma cos'è quella faccina triste cos'hai fatto eh cos'ho fatto cos'hai fatto cos'ho fatto eh non lo so te lo sto chiedendo cosa hai fatto niente 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 è possibile che devo sempre dirti tutto io non ci arrivi mai da solo sono triste perché siamo già tornati dal viaggio di notte ora capisco ma è normale tesoro sui primi giorni è così è chiaro sia un po tristi ma poi passa tutto ma non ti preoccupare no non basta e quindi e quindi e quindi devi essere tu a tirarmi sul morale io eh sì sennò cosa ci stai qui a fare è certo che ci sto a fare perfetto senti facciamo così ti vado a prendere un bel gelatino cosa ne dici ma quale gelatino amore ci sono tre gravi fuori secondo te voglio un gelato no ok senti facciamo così ti rilassi sul divano oggi penso a tutto io ok non ti preoccupare di nulla che ne dici ci può fare amore amore però dai il tè senza biscottini certo amore subito anche un po di nutella grazie amore e ricordati che il letto ancora da rifare eh certo quello è l'ho prenderlo da solo cosa dovevi fare da solo scusami no no amore ho solo detto che arrivo tra un secondo con i biscotti non ci preoccupare no no mem mandi va vuoi vuoi leviamo That la 5 vuoi vuoi v vuoi